Si gioca a grotte contro la Libertas Ragalmuto, squadra che occupa la penultima posizione in classifica a quota 4 punti e così presentandola la gara di domani del Gela dovrebbe essere una formalità. Dovrebbe, infatti. Davanti al pubblico di casa, gli avversari di Pandolfo e compagni giocheranno la partita della vita per tanti ordini di motivi. Il primo è che non possono più sbagliare per non sprofondare all'inferno. Il secondo è che se la vedranno contro il blasone bianco-azzurro. E quando si gioca contro il Gela, tutti mettono in campo ardore e cattiveria al fine di conseguire il risultato pieno. E in questi giorni il tecnico Toto Bruculeri, determinati i concetti, ha cercato di inculcarli per l'ennesima volta nella testa dei propri giocatori. Non prendere mai sotto gamba un impegno che sulla carta presenta poche difficoltà in merito alla caratura di chi si affronta. Proprio chi si affronta, come dicevamo, farà in modo di impallinare il team gelese. Dunque, rivolto a chi indossa la maglia bianca-azzurra, bisogna essere bravi e determinati a non sbagliare. Anche perché, finora, fuori dal Vincenzo Presti, si è raccolto molto poco in quattro partite tra sconfitte ed una sola vittoria. L'ultimo KO è stato subito nel derby col Mussomeli. Il campo di grotte è in terra abbattuta. Ed in una settimana l'allenatore gelese ha provato schemi e trami di gioco con allenamenti specifici in spiaggia. Al momento attuale, il team, tanto caro al presidente Angelo Tuccio, occupa la quarta posizione in classifica in compagnia di Castelbuono e Mazzara con 16 punti. Quella di domani è la prima di due trasferte consecutive. Domenica 22 novembre, i giolesi saranno di scena a Campofranco. Nel campionato di promozione gioca in casa l'altra di Gogela. Il gruppo allenato da Peppe Misiti riceverà la visita del Comiso. Troppo netto il divario tra le due compagini. I gelorossi, che hanno ritrovato Verve dopo un periodo di appannamento, sono secondi in gradatoria, anche se in compagnia di Ragusa e Licata, mentre gli blei chiudono la classifica con soli tre punti. La vittoria non dovrebbe essere difficile da conseguire. Riposa invece il Macchitella Gela.